Le persone anziane, soprattutto se rimangono sole, spesso danno fiducia a chi sembra dar loro un poco di tempo e di affetto, senza capire se quelle attenzioni siano vere oppure se siano solo un mezzo per approfittare di loro. Le cronache sono piene di racconti di raggire e truffe agli anziani, perpetrati da malviventi senza scrupoli. La cosa diventa ancora più disdicevole quando a truffare sono due persone che invece hanno insito nel loro lavoro proprio la cura degli altri. Succede a Reggio Calabria dove una donna assistente sociale e suo marito, medico, hanno abusato delle rispettive posizioni e della condizione di vulnerabilità di una donna che all'epoca dei fatti aveva 87 anni, provata prima dalla malattia delle figlie e poi dal lotto della perdita di una di loro, sottraendole beni per più di 400.000 euro. La guerra di finanza ha appurato che l'assistente sociale che prestava servizio presso la struttura dove si trovava ricoverata la figlia dell'anziana donna aveva iniziato a distaurare un rapporto di falsa amicizia con la vittima del raggiro rendendosi disponibile per assisterla nelle necessità quotidiane e ottenendo la sua fiducia. Nel frattempo il marito medico si adoperava per ottenere il rilascio delle certificazioni mediche necessarie affinché l'anziana fosse ricoverata presso una determinata casa di riposo di Reggio Calabria dove effettivamente veniva ricoverata poche settimane dopo la morte della figlia. A questo punto l'assistente sociale l'avrebbe convinta a concedere le carte di credito e a firmare a suo nome alcune deleghe oltre a contestarle i nuovi rapporti postali e bancari su cui faceva transitare, oltre alla pensione dell'anziana donna il rimborso di titoli e polizze di cui l'anziana era titolare appropriandosi delle somme con successivi prelievi incontanti emissioni di assegni poi depositate sui conti personali o trasferendo parte del denaro tramite alcuni bonifici sui conti contestati col marito. La cosa non è passata inosservata, così la Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza dei rapporti finanziari intestati ai due coniugi fino a raggiungere la somma di 419.524 euro denaro sottratto a danno dell'anziana donna.